Un'aula consigliere ai limiti dell'addecenza e lo ha documentato anche con foto. Condizioni igieniche ormai oltre il limite del sopportabile. Stessa situazione per i bagni dell'aula e quanto ha evidenziato la consigliera comunale Valentina Cocuzza che ha denunciato la situazione sostenendo che nessun intervento di pulizia ordinaria è stato effettuato nonostante le continue lamentele di diversi componenti del consiglio comunale. La consigliera dichiara anche che da oltre due anni ci sono carenze igienico-sanitarie e vane sono state le richieste di una disinfestazione bonifica immediata dell'aula, della saletta di acente e dei servizi igienici. Entrando più nello specifico e descrivendo cosa si trova all'interno della stessa aula che ospite lavori del consiglio comunale Valentina Cocuzza racconta come siano presenti anche nell'antisala cartacce, gomme da masticare, cicche di sigarette e tanta polvere. Soffermandosi sulle condizioni del bagno sostiene che è fatiscente e più volte si sono registrate problematiche agli scarichi. La consigliera conclude sostenendo che i rappresentanti del civico consesso sono completamente abbandonati a se stessi lamentando inoltre che le criticità esistenti all'esterno sono uguali a quelle che si notano dentro il palazzo municipale.